Who's the master in game? It's video game Darling, what's the coolest name? It's video game Ciao, 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 ciao ragazzi Vi devo parlare di una serie Che uscirà sul canale del mio amico Raven Che saluto, ciao Raven E praticamente lui sul suo canale Già da tempo fa questa serie su GTA Che è molto particolare Perché fa una serie che è tipo un film, no? Tutta girata con delle sequenze sul gioco GTA Tutto girato con una storia intrecciata Con dei protagonisti E poi una storia un po' particolare Ma non voglio spoilerarvi niente Io ho parlato in passato delle scorse stagioni Perché questa qua che uscirà adesso tra poco È la terza stagione Niente, io vi consiglio di seguire E se non l'avete visto Magari anche recuperare le serie prima Di questo, The GTA Series E io adesso sto parlando Ma nel frattempo magari vedrete qualche immagine Qui e là Magari del trailer Nel trailer dice che la serie poi dopo partirà Starterà alla grande A dicembre Usciranno tutte le cose nuove, no? Diciamo Però nel frattempo il mio consiglio Di recuperarvi anche Quelle prima, no? Le sequenze prima Io vi metterò ovviamente C'è il link in descrizione Il link in descrizione del canale di Raven E poi andate sotto i video A far sapere Se vi piacciono Se è piaciuta la storia Se migliorereste qualcosa Perché è sempre tutto Una cosa molto costruttiva, no? Se uno mette un commento costruttivo Lui farà molto piacere Quindi andate a trovare Il mio amico Raven E andatevi a vedere questa serie Se vi può interessare Adesso appunto C'è il trailer della terza stagione Però potete recuperarmi con le vecchie E vedere un po' Di cosa parla Ciao da Svideo!